www.vimionk.inarea di rigore, vimionk il cucchiaio e l'Inter è in vantaggio, vimionk! Milani, Santa Maria, Mazzola, Mazzola, Rete! 3 a 1, ha segnato ancora Mazzola, ventesimo del secondo tempo, ormai non vi dovrebbe essere più tupi? 5 a 1, 2 a 1, ha segnato ancora Mazzola, C Ivy! 6 a 1, ha segnato ancora Mazzola, non vi dovrebbe essere più tupi? Arriva il coso da destra, al centro c'è Klismann, pallone che rimpalla per il tedesco! Jürgen Klisman segna nel derby, gran gol L'Everan Zanetti controlla, limite, tiro E' gol, 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 e' gol Il capitano Ronaldo parte all'altezza dei 50 metri Ronaldo nessuno lo contrasta in area di gole la finta di Ronaldo ancora Ronaldo in mezzo a 2, 3, 4 avversari il gol di Ronaldo incredibile gol di Ronaldo va Pizzinetta in mezzo ma proprio sui piedi di Magrata ancora Pizzi il suo cross poi Bianchi gol e gol di Bianchi gol di Bianchi per l'Inter gol di Bianchi per la terra gol di Bianchi per la terra Maxwell che riesce a superare Ferronetti palla verso Crespo dentro c'è Adriano che sta arrivando Maxwell ancora in seguito l'azione Maxwell, grandissimo Maxwell 1-0 Inter un gol bellissimo per Maxwell biazze 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 Ancora le sue finte Mette palla sul destro Prova a calciare Beccalossi Rete Beccalossi Grandissima azione personale Beccalossi 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 Inter che fa girare il pallone Matteus prova e trova il tiro davvero della domenica dai 16 metri Questa è la croce, la mette dentro ma troppo alto, va da bene, carica il destro, è gol, 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 va da bene, c'è chi la mette 24esimo minuto, che spettacolo Grazie a tutti